A me in questo viaggio su asteroide comunque è rimasto molto perché è stata una crescita personale perché comunque ci ha insegnato tanto sia a livello almeno per quanto mi riguarda di recitazione sia a conoscere comunque il quartiere stesso. È stato un percorso molto formativo dal punto di vista sia scolastico sia anche per capire come gli abitanti della zona 167b vivono e vogliono anche riuscire a sviluppare il quartiere. Abbiamo toccato con mano abbiamo visto ciò che non andava bene o che comunque andava migliorato all'interno del quartiere 167. Nel nostro lavoro è stato comunque quello di aiutare dal punto di vista artistico facendo dei lavori di gruppo quindi instaurando collaborazione e anche comunicazione soprattutto tra gli abitanti e gli studenti. Grazie a questo progetto e soprattutto grazie alle testimonianze di coloro che vivono nella zona 167 abbiamo cercato di abbattere lo stereotipo di una zona disadattata e malfamata quindi sicuramente ho imparato a conoscere gente nuova un quartiere che non conoscevo. Molte persone della scuola vengono a scuola però non conoscono il quartiere e quindi anche questa contaminazione è stata abbastanza utile per guardarci intorno e vedere cosa abbiamo veramente intorno. Grazie. 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 Grazie.